incontro secondo fu un caso un caso davvero il barone de trail stanco di restare sempre in piedi entrò poiché tutti gli appartamenti della principessa erano aperti quella sera di festa nella camera da letto deserta e quasi al buio per chi usciva dai salotti illuminati a giorno cercava una poltrona dove appisolarsi un poco sicuro che sua moglie non avrebbe consentito ad andarsene prima di giorno fatto dalla porta scorse il largo letto azzurro a fiori d'oro che si ageva in mezzo alla vasta stanza simile a un catafalco dove sarebbe stato seppellito d'amore poiché la principessa non era più giovane dietro una grande macchia chiara dava la sensazione di un lago intravisto da una finestra alta era lo specchio immenso discreto ornato di oscure tapezzerie che qualche volta si lasciavano ricadere e che spesso venivano risollevate e lo specchio sembrava guardare l'alcova la sua complice si sarebbe detto che avesse i suoi ricordi i suoi impianti come uno di quei castelli che i fantasmi frequentano e che sul suo volto unito e vuoto stessero per passare le forme meravigliose che hanno le anche nude delle donne e i gesti languidi delle braccia quando si abbrazzano il barone sarà fermato sorridendo e un po commosso sulla soglia di quella camera d'amore ma subito qualcosa parve nello specchio come se davvero fossero sorti davanti a lui i fantasmi evocati un uomo e una donna si erano alzati da un divano molto basso e semi nascosto dove si erano seduti e il cristallo terzo che rifletteva le immagini loro li mostrava ora in piedi mentre si baciavano sulle labbra prima di separarsi il barone riconobbe sua moglie e il di cervignè si voltò dall'altra parte e si allontanò da quel uomo forte e padrone di sé che era e aspettò che venisse il nuovo giorno per ricondurre a casa la baronessa ma non pensava da più a dormire quando fu solo con lei le disse signora mia vi ho veduta poco fa nella camera della principessa di rainè non ho bisogno di spiegarmi più chiaramente non mi piacciono i rimproveri nelle scene violente e nemmeno il ridicolo e volendo evitare tutte queste cose si separeremo senza chiasso i miei amministratori regoleranno secondo i miei ordini la vostra situazione sarete libera di vivere come meglio vi aggrada non abitando più sotto il mio stesso tetto ma vi prevengo che se darete occasione di scandalo sarò obbligato a mostrarmi molto severo dato che continuerete a portare il mio nome lei cercò di parlare il barone l'impedì si chinò e rientrò in camera sua si sentiva più stupito e triste che infelice e aveva voluto molto bene nei primi anni del loro matrimonio quest'ardore sarà raffreddato poco a poco e ora il barone aveva spesso qualche capriccio nel teatro in società pur conservando tuttavia una certa predilezione per la baronessa lei era giovanissima ventiquattro anni soli cialppo bionda e magra troppo magra era come una bambola di parigi fine male abituata elegante civettina abbastanza sensibile dotata di un fascino maggiore della sua stessa bellezza in confidenza il suo fratello quando parlava di lei mia moglie affascinante provocante solo che non vi lascia nulla in mano è come una di quelle coppe di champagne dove tutto è schiuma quando si finisce col trovare il fondo il vino è buono molto buono ma è troppo poco camminava su e giù per la stanza angustiato pensando a mille cose a tratti una vampata di collera lo tormentava e aveva voglia di andare a spezzare le ossa al marchese oppure di schiaffeggiarlo al circolo poi constatava che questi sfoghi sarebbero stati di cattivo gusto che la gente avrebbe riso di lui anziché dell'altro e che questi trasporti d'ira derivavano assai più dalla sua vanità ferita che dal suo cuore trafitto si mise a letto ma non riuscì a prendere sonno qualche giorno dopo si venne a sapere a parigi che il barone e la baronessa de trail erano amichevolmente separati per incompatibilità di carattere nessuno sospettò nulla non si fecero chiacchiere e non ci si stupì della faccenda malgrado ciò il barone viaggiò per un anno intero per evitare incontri che potevano essergli penosi poi passò l'estate successiva ai bagni l'autunno in tenute di caccia e tornò a parigi in inverno non rivide sua moglie nemmeno una volta sapeva che non si chiacchierava affatto sul conto di lei aveva cura almeno di salvare le apparenze il barone non domandava di più si annoiò viaggiò ancora poi si mise a restaurare il suo castello di vil bosque cosa che gli portò via un paio d'anni poi ricevette gli amici e intanto passarono almeno 15 mesi infine stanco di questi piaceri ormai abituali tornò nella sua dimora di rui de lille esattamente sei anni dopo la separazione aveva 45 anni i primi capelli bianchi un po di pancetta e quella speciale malinconia delle persone che sono state belle ricercate amate e che si sciupano giorno per giorno un mese dopo il suo ritorno a parigi il barone prese freddo mentre usciva dal circolo e cominciò a tossire il dottore gli consigliò di andare a trascorrere la fine dell'inverno a nizza la sera ad un lunedì partì con il rapido perché era in ritardo arriva proprio nel momento in cui il treno si metteva in moto sarà un posto libero in uno scompartimento ed egli vi salì un'altra persona sarà già installata nell'altro posto d'angolo avvolta da tante pellicce e mantelli che il barone non pote nemmeno indovinare se fosse un uomo o una donna di questa persona non si vedeva altro che un lungo fagotto rigido di stoffe quando si rese ben conto che non avrebbe potuto saperne di più il barone si sistemò a sua volta mise il berretto da viaggio spiegò le sue coperte di lana vi si ravvoltò la dentro si allungò alla meglio e si addormentò non si risvegliò che all'alba e subito rivolge gli sguardi verso il compagno di viaggio questi non sarà mosso in tutta la notte e sembrava ancora in pieno sonno il signor de trail ne approfittò per fare la sua toletta mattutina pettinare la barba ai capelli e tentare di riprendere quell'aspetto normale che la notte altera in una maniera così violenta quando si ha una certa età il gran poeta ha detto quando si è giovani i risvegli sono trionfali quando si è giovani i risvegli sono stupendi con la pelle fresca gli occhi lucenti i capelli brillanti quando si invecchia invece i risvegli sono orribili gli occhi sono appannati le guance rosse e gonfie la bocca impastata i capelli impiastricciati e la barba in disordine hanno al viso un aspetto vecchio stanco finito il barone aveva aperto il suo necessaire di viaggio e aveva cercato di aggiustare la propria fisionomia con qualche colpo di spazzola aspettava il treno fischiò poi si fermò il vicino si mosse si era svegliato senza alcun dubbio il treno riprese a correre ora un raggio di sole obliquo entrava nello scompartimento e cadeva proprio addosso al viaggiatore addormentato che si mosse di nuovo scosse un poco la testa come un pulcino che esce dal guscio e mostrò tranquillamente il suo viso era una giovane signora bionda fresca molto graziosa e grassottella si mise a sedere il barone la guardava stupito non sapeva più quel che dovesse credere perché davvero c'era da giurare che quella signora fosse sua moglie sua moglie straordinariamente cambiata in meglio ingrassata o ingrassata come lui ma in meglio in meglio lei lo esaminò tranquillamente con lo sguardo parve non riconoscerlo e si sbarazzò con placidità delle coperte che la circondavano aveva la calma sicura di una donna padrona di sé audata insolente del risveglio di chi si conosce di chi si sente in piena bellezza in piena gioventù il barone perdeva veramente la testa era sua moglie o un'altra signora che la rassomigliava come una gemella dopo tutto non l'aveva veduta da sei anni poteva anche sbagliarsi e sbadigliò il barone riconobbe uno dei suoi gesti ma di nuovo la signora si voltò verso di lui e lo percorse tutto lo coprì uno sguardo tranquillo indifferente uno sguardo innocente poi si mise a osservare la campagna il barone rimase smarrito tremendamente perplesso attese il birciandola ogni tanto con ostinazione ma sì era sua moglie per dinzi come poteva esitare ancora non c'erano mica due nasi come quello mille ricordi gli tornarono alla memoria ricordi di carezza di piccoli particolari del corpo di lei un neo sull'anca un altro sulla schiena in corrispondenza del primo quante volte li aveva baciati si sentiva invaso da antichi desideri ritrovando l'odore della pelle di lei il sorriso di quando gli gettava le braccia sulle spalle le dolci intonazioni della voce tutte le carezze affettuose d'un tempo era cambiata più bella era lei e non era lei la trovava più matura più donna fatta più femminile più seducente più desiderabile adorabilmente desiderabile dunque questa donna straniera sconosciuta incontrata per caso in treno era sua e apparteneva per lezze non doveva dirle che ti voglio un tempo aveva dormito tra le sue braccia vissuto nel suo amore ora la ritrovava così mutata che a stento poteva riconoscerla era un'altra e nello stesso tempo era lei era un'altra come nata formata e cresciuta dal momento in cui egli l'aveva lasciata eppure era ancora lei la donna che aveva posseduto e di cui ritrovava modificati gli atteggiamenti più formati vecchi lineamenti meno lezioso il sorriso più sicuri i gesti erano due donne in una sola che mescolavano una gran parte di cose nuove e sconosciute a una parte di ricordi cari era qualcosa di singolare qualcosa che turbava eccitava una specie di amoroso mistero su cui ondeggiava un velo di deliziosa confusione era sua moglie in un corpo nuovo in una carne nuova che le sue labbra non avevano mai toccato in realtà stava pensando che in sei anni tutto muta in noi solo le linee di contorno rimangono riconoscibili e qualche volta anch'esse spariscono sangue capelli pelle ogni cosa si rinnova e torna a formarsi di nuovo e quando si sta diverso tempo senza rivedersi si ritrova un altro essere del tutto diverso benché sia proprio lo stesso e porti il medesimo nome anche il cuore può cambiare le idee si modificano si rinnovano così che in 40 anni di vita noi possiamo a causa di lente e costanti trasformazioni diventare quattro o cinque persone assolutamente nuove e diverse turbato il barone rifletteva d'un tratto tornò ad angustiarlo il pensiero della sera in cui l'aveva sorpresa nella camera della principessa non era agitato più dagli antichi furori non aveva più sotto gli occhi la stessa donna la bambola magra e vivace d'un tempo che fare come parlare che dirle l'aveva riconosciuto il treno si fermò nuovamente lui si alzò salutò e disse berte avete bisogno di nulla potrei portarvi lei lo guardò dalla testa ai piedi e rispose senza stupirsi senza confusione senza collera complace da indifferenza no di niente grazie il barone scese e fece qualche passo sul marciapiede della stazione per sgranchirsi come per riprendere i sensi dopo uno svenimento che poteva fare ora salire in un altro vagone avrebbe avuto l'aria di fuggire mostrarsi galante cortese avrebbe avuto l'aria di chiedere perdono parlare come padrone sarebbe stata un'azione volgare inoltre egli non aveva più alcun diritto risalì e riprese il suo posto anche la baronessa durante la sua assenza aveva fatto una rapida toalette ora sarà sdraiata sulla poltrona impassibile raggiante il marito si voltò verso di lei e le disse mia cara verte poiché un caso molto malizioso ci fa incontrare dopo sei anni di separazione di separazione senza cattiveria dobbiamo proprio continuare a guardarci come due nemici riconciliabili è come se fosse tutto predisposto per un dolce colloquio siamo soli tanto peggio tanto meglio non sarò certo io che me ne andrò perciò la cosa preferibile è chiacchierare come 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 due amici sino alla fine del nostro viaggio non è vero la baronessa rispose con calma come volete allora lui rimase male non sapendo più che dire poi audacemente si vicino sedette nella poltrona centrale e con un tono galante tentò vedo che bisogna farvi la corte e così non c'è altro da fare è un gran piacere d'altronde perché ora voi siete una donna meravigliosa non vi figurate neppure quanto abbiate guadagnato in questi sei anni non conosco nessun'altra donna che mi abbia dato la sensazione deliziosa che ho provato poco fa quando vi ho vista uscire dalla pelliccia in verità non avrei mai creduto possibile un simile cambiamento senza muovere il capo senza guardarlo lei scandì non posso dirvi altrettanto perché voi invece avete perduto molto il barone arrossì confuso e turbato poi con un sorriso di rassegnazione siete cattiva lei si voltò verso di lui perché faccio una constatazione non avrete mica l'intenzione di offrirmi il vostro amore dunque assolutamente indifferente che vi trovi bene o male ma vedo che quest'argomento è particolarmente penoso per voi parliamo d'altro che avete fatto da quando non ci siamo più veduti il marito non sapeva come comportarsi valbettò tutto confuso io ho viaggiato sono andato a caccia sono invecchiato come vedete e voi serenamente la dichiarò io ho salvato le apparenze come ne avete ordinato gli venne sulle labbra una parola brutale ma non la disse preso invece la mano di sua moglie e la baciò ve ne ringrazio lei rimase sorpresa suo marito era davvero un uomo forte e sempre padrone di sé e gli riprese poiché avete detto di sì alla mia prima domanda volete ora parlare con me senza rancore la signora ebbe un piccolo gesto di disprezzo rancore non ve ne servo mica siete un estraneo per me completamente io vorrei soltanto tentare di rianimare una conversazione difficile lui la guardava sempre sedotto malgrado l'asprezza dei modi mentre lo invadeva un desiderio brutale un desiderio irresistibile un desiderio da padrone pur essendo certa di ferirlo attaccandosi anzi con furore a questa speranza sua moglie chiese quanti anni avete oggi mi pareva che dimostraste meno dell'età che avevate impallidì ho 45 anni aggiunse ho dimenticato di chiedervi notizia della principessa di rainè la vedete sempre la baronessa gli rivolse uno sguardo d'odio sì sempre sta molto bene grazie e restarono irritati col cuore in subbuglio a un tratto il barone dichiarò mia cara verte ho cambiato idea voi siete mia moglie e io pretendo che torniate da oggi sotto il mio tetto siete molto migliorata siete più bella e avete un carattere migliore e io voglio riprendervi sono vostro marito dopo tutto è un mio diritto e la rimase stupefatta e lo guardò fisso negli occhi per reggervi i suoi pensieri il marito aveva un viso impassibile impenetrabile e risoluto rispose mi dispiace molto ma ho altri impegni il barone sorrise peggio per voi la legge è dalla mia parte e io userò allora la forza stavano per arrivare a marsiglia il treno fischiando rallentava la sua andatura la baronessa si alzò arrotolò con sicurezza le proprie coperte poi volgendosi al marito mio caro raimon vi prego di non abusare di un colloquio che ho preparato io ho voluto prendere una precauzione seguendo i vostri consigli per non dover temere più nulla né da voi né dalla gente succeda quel che succeda andate a nizza voi non è vero andrò dove andrete voi niente affatto ascoltatemi e vi prometto che quando saprete vi lascerete in pace tra pochi istanti sul marciapiede della stazione vedrete la principessa di rainè e la contessa in rio che mi aspettano con i loro mariti ho voluto io che ci insieme voi e me e che si sapesse che abbiamo trascorso la notte soli in questo scompartimento non abbiate timore di nulla queste signore l'andranno a raccontare ovunque tanto la cosa sembrerà sorprendente vi dicevo poco fa come seguendo scrupolosamente in ogni punto le vostre raccomandazioni io ho con molta attenzione salvato le apparenze per il resto non se ne è neanche parlato vero ebbene è per continuare a salvare le apparenze che ho voluto questo incontro mi avevate ordinato di evitare scrupolosamente ogni scandalo e io lo evito mio caro perché ho paura ho paura aspettò che il treno si fosse fermato del tutto e mentre un gruppo di amici si slanciava ad aprire la porta dello scompartimento terminò ho paura ad essere incinta già la principessa tendeva le braccia per abbracciarla la baronessa le indicò il volto stupito per la sorpresa del marito che cercava di raccapezzarsi e disse non riconoscete dunque raimon si è vero è molto cambiato ha consentito di accompagnarmi per non farmi viaggiare sola qualche volta facciamo insieme delle scappatelle come oggi da buoni amici che non possono vivere insieme per resto qui stiamo già per lasciarci ne abbastanza di me gli tese la mano che egli afferrò macchinalmente poi ella saltò sul marciapiede in mezzo a coloro che l'aspettavano il barone richiuse bruscamente la porta dello scompartimento troppo turbato per dire una parola sola o per prendere una decisione utiva la voce gioiosa di sua moglie e le sue risate argentine che si allontanavano non l'ha più rivista da allora aveva detto una bugia aveva detto la verità l'ignorò sempre grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti